... sul basso dei 3 e 4 milioni di chilometro, che è un gran piacere, lui che è arrivato alla maratona di Berlino e ha confermato un grandissimo salto di qualità, proprio qui, immerso nella penezza della penisola solettina e della penisola africana, immerso nel cuore della cosa più bassa, inizio del 2014. Grazie. A tutti i livelli, il fratello Alfredo, l'allenatore e la campionese del modo di cross, 1 e 35, Alla mariava da qua, il fratello Alfredo è stato il vincitore della prima edizione di quella che fu, ma tu ne ricorda la figura, è la 28 dinamometri, Napoli Pompei. Poi ci sappiamo che altri... Grande! 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 Siamo in un ambiente completamente opposto... Siamo passati dai monti di Quisisana, qui in zona arrivo da Marfi, basta il nome, la garanzia di qualità e di bellezza. Meravigliosa, così da Marfi Sorrento, uniti da un'unica gara, da costo costo, e emozione a non finire. E' per il bussare di queste immagini, sono immagini top, attraverso l'attentica leggera naturalmente. Grazie! 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 saltati primi